Buongiorno a tutti, oggi vi voglio parlare del razzismo spiegato a mia figlia, scritto da Tarben. Diciamo subito che il libro è una sorta di dialogo tra il padre e la figlia di dieci anni. La figlia, che sente sempre più parlare di razzismo a scuola, alla televisione, chiede al padre di spiegarle che cosa sia il razzismo e perché se ne parli così tanto negli ultimi tempi. L'autore risponde alle domande della figlia affermando che il razzismo è un comportamento tipicamente umano e che consiste nel mostrare diffidenza, disprezzo, ostilità sempre più marcata nei confronti di coloro che hanno caratteri diversi dai nostri, come nel caso ad esempio dei bianchi nei confronti delle persone dalla pelle scura. E secondo Tarben, Gelun, il razzismo si combatte con l'educazione perché proprio grazie all'educazione si riesce ad entrare a contatto con la cultura con cui si impara a vivere insieme. Si impara soprattutto che non siamo soli al mondo. Di fronte alle domande sempre più incalzanti della figlia, l'autore osserva che non si nasce razzisti, lo si diventa, in quanto gli uomini a tutte le latitudini hanno nei confronti dell'altro da sé dei pregiudizi, ossia giudicano gli altri ancora prima di conoscerli e spesso sbagliano. Invece i bambini, a differenza degli adulti, non nascono con il razzismo nella testa ed è proprio per questo che occorre puntare sull'educazione con cui si impara a rispettare gli altri. Pertanto, conclude l'autore, si vengono a determinare paure, odi, determinati dall'ignoranza. Infatti scrive, si alimenta la paura dello straniero, la paura che lui voglia prendere la mia casa, il mio lavoro, la mia donna, per cui viene aggredito. A questo punto la figlia sintetizza che il razzismo deriva dalla paura, dall'ignoranza e dalla bestialità. Il dialogo va avanti proponendo degli antidoti, ossia dei rimedi contro il razzismo. Vediamo adesso l'analisi e un commento di questo libro. Diciamo, mi hanno detto che il libro è un dialogo che presenta un ritmo veloce e incalzante in cui emerge che il razzismo è ormai un fenomeno sociale che caratterizza la società contemporanea e che va combattuto con le armi dell'educazione in quanto è un vero e proprio male, un virus, una pandemia, una malattia endemica che poco alla volta contagia le persone di tutto il pianeta. Senza dubbio uno dei pregi del libro sta nella chiarezza con cui l'autore spiega ai lettori che cosa sia il razzismo e quali siano le cause che lo generano attraverso i ferimenti precisi. Dalla lettura si avverte comunque lo sforzo dell'autore di andare oltre i pregiudizi per fondare una società più giusta basata sull'integrazione. Sotto questo punto di vista la vita di Benjeloun ne è la prova concreta. Scrittore e poeta marocchino che ha perfezionato i suoi studi a Parigi e ha voluto sempre scrivere in lingua francese facendosi così conoscere anche all'estero. Colpisce nella lettura di questo libro la grande capacità di Benjeloun di individuare e descrivere le cause e gli effetti del razzismo con assoluta precisione in modo da dare alle sue spiegazioni obiettività e imparzialità. Infatti l'autore inizia la sua spiegazione, il dialogo partendo non dato di fatto. Negli ultimi cinquant'anni la società francese, ma va bene anche per la società italiana, non è più costituita da francesi puro sangue, ma dagli immigrati arabi, africani, asiatici, che sono arrivati per svolgere mestieri umili che ormai i francesi non fanno più, come il oratore, panettiere, fruttevendo il camionista. Allo stesso modo appare approfondita e puntuale la spiegazione dell'autore sulla presunta scientificità del razzismo, in base alla quale la razza bianca è superiore per intelligenza e cultura su quella nera. L'autore scrive «Non esiste alcuna base scientifica, anche se alcuni uomini hanno provato a servirsi dalla scienza per giustificare le loro idee di discriminazione». E infatti l'autore cita come esempio lo storico Ernest Renan, vissuto nell'Ottocento, che sostiene che il negro è un uomo a cui mancano l'intelligenza e la bellezza. Ed è proprio partendo da queste basi scientifiche che consistono nel portare la civiltà alle razze inferiori che sono nate le politiche imperialistiche di fino all'Ottocento e inizio del Novecento, della Francia, del Belgio, dell'Inghilterra, dell'Italia e del Portogallo, che hanno sottomesso le popolazioni locali trattandole come schiavi. Infine l'autore mostra come i libri sacri siano contro il razzismo, citando prima il Corano, poi la Tora e infine il Nuovo Testamento.